La Goletta Verde navica i nostri mari alla ricerca di nuovi pirati. Perché i nuovi? Perché i pirati non sono più quelli che hanno la benda sull'occhio, la gamba di legno o il pappagallino sulla spalla. Allarga. È vero o no? I nuovi pirati sono quelli che devastano le nostre coste, che riversano in mare i veleni di ogni genere, che affondano navi piene di rifiuti. È vero o no? È infatti da casa. Grazie a tutti.